A Ragusa, presso la sede della protezione civile, si è tenuto un incontro con funzionari provinciali e regionali cui ha partecipato anche il sindaco di Acate, Franco Raffo, un confronto che ha svariato sulle varie problematiche che riguardano proprio la protezione civile, chiamando in causa la prevenzione dei danni ambientali. Il sindaco di Acate, nel suo intervento, ha raccontato ai presenti l'esperienza della nascita in città della protezione civile, imperniata solo ed esclusivamente sul volontariato e alla quale è stata destinata una sede operativa verso il campetto di atletica leggera che, dopo anni di abbandono e vandalismo, ha ricordato il sindaco, è ritornata ad essere fruibile alla cittadinanza. Raffo si è detto quindi pronta ad una collaborazione sul piano pedagogico tra amministrazione e protezione civile, valicandoci il confine di semplice rappresentanza locale o di pronto intervento per farne invece un soggetto propositore di un costante ed educativo dialogo con la gente, in modo particolare con le scuole. Il sindaco Acates ha poi spiegato che il suo intentimento è avviare dei corsi di formazione ed educazione alla prevenzione rischia e calamità naturali, corsi rivolte a tutte le fasce di età, ma soprattutto agli alunni delle scuole cittadine.